Il sindaco di Imperia Carlo Capacci, quale capofila del comprensorio di 35 comuni che condividono lo sfortunato appalto con la Tradeco per la raccolta dei rifiuti, ha convocato per oggi pomeriggio una nuova riunione con tutti i sindaci interessati. Una riunione lampo, durata neanche un'ora, dalla quale non è emersa nessuna novità. Capacci infatti ha semplicemente ribadito ai suoi colleghi sindaci che sarà necessario aspettare mercoledì, giorno in cui scadrà il termine per la presentazione da parte della Tradeco, delle contradduzioni relativa alla rescissione dell'appalto avviata dal Comune di Imperia, quale capofila. Tradeco però potrebbe anche chiedere uno slittamento dei tempi per avere modo di verificare la copiosa documentazione che ha ritirato da Palazzo Comunale soltanto mercoledì scorso. In ogni caso l'esame delle contradduzioni porterà via altro tempo e il momento della definitiva rescissione degli accordi, pertanto è destinato ad allungarsi. Nessuna novità nemmeno in merito alla gestione provvisoria, il Comune di Imperia propone sempre di affidarla alla stessa Tradeco, ma molti comuni stanno ragionando di trovare altri gestori non volendo più avere a che fare con l'azienda pugliese.